salve a tutti amici bentornati sul canale oggi vi mostro come faccio il birch amusli che diciamo da quando sono qua in svizzera piano piano mi ha conquistato non avrei mai creduto di sostituire un pasto come per esempio adesso ci pranzo ma è geniale cioè birch amusli è veramente geniale lo puoi fare con la frutta che vuoi lo puoi fare come vuoi quindi un po una cosa molto personale ognuno la fa a modo suo nel senso c'è chi ci mette il latte c'è chi ci mette lo yogurt c'è chi lo lascia per mezz'ora prima di mangiarlo per far ammorbidire il muesli c'è chi lo mangia subito io vi mostro il mio di modo con un muesli un breve scenno storico sul bircher muesli che è stato inventato proprio dal medico maximilian oscar bircher banner studioso di alimentazione di vita sana ideò questo pasto per avere un alimento che desse energia nell'arco di tutta la giornata somministrandolo ai suoi pazienti e viene mangiato veramente tanto considerate che viene servito anche per pranzo per cena non soltanto per merenda o per collazione è un concetto molto distante dal nostro modo di mangiare però devo ammettere che ha il suo perché ed è veramente buono andiamo subito allora a tagliare la mela allora io sono abituato a mangiare la mela con la buccia quindi non la sbuccio poi mettiamo un cucchiaino di nocciole tritate il muesli io in genere lo metto due manciate così ho trovato i mertilli a un prezzo ragionevole e l'uva l'uvetta e un cucchiaino di miele possiamo aggiungere lo yogurt ormai non compro maschette da un chilo se notate poi alla fine che il muesli è troppo denso se potete metterci anche un goccino di latte che diventa tutto molto più più fluido più liquido aspettando mezz'ora il muesli diventa molto morbido assorbe parte liquida dello yogurt c'è chi lo preferisce in quel modo io generalmente lo mangio subito lo mangio così com'è però dipende poi se lo lasciate anche un quarto d'ora un pochino già si ammorbidisce fate delle prove importante scrivetemi un commento ditemi che ne pensate provate a farlo metteteci quello che più vi piace poi fatemi sapere ringraziando il dottor beer share e naturalmente anche voi per aver visto questo video fino alla fine ci vediamo al prossimo iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un pollice in su se questo video vi è piaciuto voletevi bene